La consulta per i disabili del comune di Battipaglia cerca uno slogan per pubblicità sociale per dotare i cartelli per i parcheggi dei diversamente abili di un nuovo messaggio più efficace. L'iniziativa promossa dal presidente Anna Bruno nasce dalla necessità di regolare la situazione dei parcheggi, circa 500 quelli generici per i diversamente abili che si sommano ai 350 assegnati personalmente ai portatori di handicap. Intanto il vicepresidente della consulta, Rossella Speranza, ha richiesto una mappatura del territorio anche perché vi sarebbero richieste di contrassegni che da almeno tre mesi giacciono senza risposta. Inoltre occorrerebbe una razionalizzazione dei posteggi per disabili. Secondo i componenti della consulta comunque vi è anche un'esigenza legata al corretto uso dei contrassegni. In alcune occasioni infatti l'uso dell'autorizzazione verrebbe abusata. La consulta vorrebbe lanciare un concorso di idee che coinvolga le scuole battipagliesi. I commercianti poi finanzierebbero il premio allo slogan migliore. Grazie. Grazie. Grazie.